buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 12 aprile 2024 la nostra rassegna stampa come sempre verte sul Corriere Adriatico e il resto del Carlino sulle pagine locali però oggi abbiamo una novità il resto del Carlino purtroppo esce con una edizione ridotta in quanto a causa di uno sciopero nazionale che coinvolge l'area di stampa del giornale sappiamo che l'area di stampa del giornale quella soprattutto dell'Emilia Romagna oggi esce in edizione ridotta nelle cronache locali ovviamente il quotidiano si scusa con i lettori ma avverte appunto che c'è una sintesi delle notizie e quindi per quanto riguarda le cronache marchigiani sono molto molto ridotte e vedremo che manca completamente nell'edizione che si trova in edicola le notizie della provincia di Pesaro Urbino comunque si trova tutto su internet e quindi chi vuole magari usare il web può farlo e trovare le notizie del resto del Carlino il Corriere Adriatico esce invece in edizione completa ma noi intanto procediamo con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo il santo e San Giuseppe Moscati era il medico di Napoli era beneventano ma è soprattutto conosciuto come il medico di Napoli il medico della povera gente si lavoreò a 22 anni ottenne anche l'insegnamento universitario ma preferì di operare nel come medico ordinario nel ospedale degli incurabili fu un grande diagnostico i suoi colleghi si meravigliavano come in un'epoca in cui non c'erano le attrezzature diagnostiche che ci sono oggi l'attacca la risonanza i raggi e via dicendo ebbene lui con la sua sensibilità con la sua preparazione riusciva ad individuare l'esatta natura delle malattie e quindi la cura necessaria fu il medico dei poveri e i poveri non accettava denaro insomma anche lui stesso poi magari partecipava alle cure in modo che si trovasse una soluzione alle malattie operò in piena epidemia di colera operò all'inizio degli anni 1900 appunto del secolo scorso durante la fase eruttiva del vesuvio addirittura ci fu un momento in cui stava per crollare anche l'ospedale ma morì giovane morì giovane a 47 anni nel 1927 proprio il pomeriggio del 12 aprile appunto oggi 12 aprile è la sua ricorrenza questo è san giuseppe moscati vediamo ora le previsioni del tempo dico subito che oggi c'è tempo bello su tutte le marche c'è il sole il cielo sereno stamattina una bella alba ebbene giornale giornata nel complesso stabile soleggiata sulla regione per via di un nuovo rinforzo dell'anticiclone c'è l'alta pressione le temperature variano dai 14 ai 19 gradi i venti sulle coste da nord ovest nell'entroterra da nord nordeste il mare è leggermente mosso e il sole è sorto alle 6 e 29 e tramonterà alle 19 e 47 questo per quanto riguarda l'assetto della giornata una giornata piacevole la temperatura è gradevole insomma siamo in primavera e godiamoci questo trapasso dolce dall'inverno l'inverno è stato mite anche lui verso l'estate questa forse è la stagione più bella dell'anno non c'è non fa né troppo freddo né troppo caldo quindi questa temperatura ideale che insomma agevola anche le normali occupazioni della giornata allora allora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano dove vediamo una intervista che Osvaldo Scatassi ha fatto ad uno dei candidati sindaco che si confronteranno nelle primarie di domenica prossima sono rimasti in due in balottaggio l'intervistato è Cristian Fanesi che si confronterà con Samuele Mascarin la città deve avere più peso politico intitola oggi il Corriere Adriatico riprendendo una dichiarazione di Fanesi cruciali i servizi e le infrastrutture Cristian Fanesi è stato assessore è assessore all'urbanistica è stato anche assessore ai lavori pubblici quindi la sua sfera di interesse verte soprattutto ovviamente poi spazia su tante cose ma verte soprattutto su questi due aspetti servizi e infrastrutture Fanesi invita al voto per il balottaggio e sulle turbolenze in consiglio turbolenze che sono evidenziate anche nell'ultima seduta del consiglio comunale quando è venuto a mancare il numero legale e non per improvvise malattie o problemi del genere ma forse per un calcolato così almeno si suppone un calcolato disegno per minare in qualche modo la giunta di Massimo Seri Fanesi invita al voto per il balottaggio sulle turbolenze in consiglio si appella al segretario del partito democratico. Vediamo un attimo qualche risposta che dà Fanesi alla intervista bisogna chiedere al segretario del partito quello che è avvenuto l'altro giorno quando doveva svolgersi una nuova seduta del consiglio comunale sulle contradduzioni alle osservazioni presentate al piano regolatore. Ne sono state fatte altre di queste sedute però la lista è piuttosto lunga abbiamo visto che sono 433 i punti da discutere e da approvare ed ora altre due sedute sono state convocate per martedì e mercoledì prossimo. Ebbene che cosa è accaduto perché aspettava alla maggioranza mantenere il numero legale? Ebbene Fanesi dice non chiedetelo a me chiedetelo alla capogruppo del PD. I timori sull'impatto del traffico locale sono giustificati si deve quindi lavorare sulla sicurezza individuando le opportune mitigazioni. Ebbene insomma viene tirato in ballo il traffico locale. Vabbè questa è una delle situazioni che si trovano nel percorso politico appunto che è in atto in questo momento. Ma vediamo anche un'altra iniziativa che desta così è una novità quella di un consigliere che dalla maggioranza passa all'opposizione proprio al termine della tornata amministrativa. E il consigliere è Giampiero Pedini. Giampiero Pedini passa all'opposizione e va in lista con la Lega. Era stato eletto con la lista civica del sindaco Noi Città. Nel 2022 è passato al gruppo misto iscrivendosi poi ad azione e adesso compie un altro salto verso la Lega. Dobbiamo dire è stato molto vario il percorso politico di Giampiero Pedini. Giampiero Pedini è passato all'opposizione e nel consiglio comunale convocato per martedì prossimo, lo abbiamo detto, cosa farà? Voterà di conseguenza quindi voterà insieme all'opposizione e voterà ovviamente contro le contradduzioni che sono state fatte e quindi sono queste decisioni che la Giunta assume e lui voterà contro. Vabbè, le primarie del centro-sinistra, ha detto Pedini, hanno marcato un forte spostamento a sinistra della coalizione che si propone in continuità alla guida della città dopo dieci anni di amministrazione. Ebbene, la probabilità che sia un esponente della sinistra radicale a guidare la città non mi soddisfa, sia l'allusione papale a Samuele Mascarin, allora io passo all'opposizione. Questa è la giustificazione che ha dato Pedini. Ed ora diamo un'occhiata invece a quello che dice Stefano Marchigiani, soprattutto in merito appunto alla mancanza del numero legale dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Ed è una mancanza che non si è limitata solo ad una seduta, ma in seguito ce ne sono state tante tante altre. Non molto tempo fa una precedente. Maggioranza in ordine sparso sul piano regolatore, dice Stefano Marchigiani, sulle lotte intestine del centro-sinistra. E questo evidenzia come all'interno del centro-sinistra ancora non ci sia quella armonia che dovrebbe, insomma, così legare tutti le componenti per le prossime elezioni. Si va un po' in ordine sparso. La lotta intestina e l'imboscata è degna delle migliori strategie militari, gli ha detto Marchigiani, candidato sindaco dei progressisti, che commenta il mancato numero legale del Consiglio Comunale di mercoledì scorso. Dicevo qua, passiamo ora ad un convegno molto importante che si è svolto ieri nella sala San Michele a Fano. Un convegno sulla sicurezza. In precedenza, lo dobbiamo ricordare, c'è stato un convegno, sempre sullo stesso tema, organizzato da Fratelli d'Italia con l'intervento del sottosegretario al Ministero degli Interni, Samuele Prisco. Anche in quel caso si è trattato il tema coinvolgendo anche l'amministrazione comunale che dovrebbe, appunto, collaborare con le forze dell'ordine per mantenere la sicurezza in città. Il problema è esploso in seguito alla rissa con accoltellamento che c'è stata due sabati fa nei pressi di piazza Andrea Costa quando si sono affrontati un marrocchino e un egiziano. Ebbene, quello è stato un momento significativo per poi tutto quello che era accaduto in precedenza e quindi si richiedeva un maggiore intervento di controllo ma anche di altre iniziative da parte dell'amministrazione comunale. Ebbene, questo ulteriore impegno da parte dell'amministrazione comunale è stato convalidato proprio ieri dal sindaco Massimo Seri parlando non semplicemente solo di sicurezza. Sicurezza è un vocabolo che dice tutto ma dice anche niente perché poi è vago. Invece si parla di sicurezza integrata. Allora, sicurezza integrata che cosa significa? Significa sì che le forze dell'ordine sono sempre i principali attori per quanto riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico ma ci sono anche altre componenti. E quali sono le altre componenti? Allora, lo ha elencato il sindaco, dice che sicurezza significa un'opportuna pianificazione urbanistica, un sistema di videosorveglianza che tenga sotto controllo i punti strategici della città, la cura dei luoghi di assembramento, così come è stato fatto con il Pincio, e il rafforzamento dell'illuminazione, così come è stato fatto con il Parco Pubblico dei Passeggi. Questi erano due luoghi dove le turbolenze erano sempre in atto. Là con la cura dell'estetica, qua con il rafforzamento dell'illuminazione, il problema non dico che si è risolto ma si è molto molto attenuato. Quindi un risultato è stato ottenuto. E poi vediamo la presenza costante dei servizi sociali che possono intervenire prioritariamente laddove c'è pericolo che si sviluppino casi di devianza, quindi la prevenzione dal punto di vista sociale che possa incidere laddove c'è un malessere generazionale, un malessere che porta poi i giovani a delinquere e quindi a scontrarsi con le forze dell'ordine. A questo convegno di ieri si sono avvicendati diversi relatori. C'è stata una relazione anche della comandante della Polizia Locale Montagna, c'è stata soprattutto la presenza del nuovo questore Francesca Montereali, della nuova questora Francesca Montereali. Grazie alle telecamere posizionate dal Comune, ha detto quest'ultima, proprio oggi, cioè ieri, il commissariato di Fano ha fermato due malviventi accusati di furto. Quindi vedete come le telecamere che magari sono posizionate per rilevare le infrazioni al codice della strada, in realtà sono veramente un grande sussidio, un grande aiuto per le forze dell'ordine quando si tratta di avviare delle indagini. Passiamo alle altre notizie. Restiamo a Fano, perché vediamo che c'è un articolo che riguarda la cultura, un incontro da capitale, sette artisti per sette industriali. Si entra nel vivo nella settimana, vabbè, che c'entra Fano allora? E' Cagli questa, è Cagli, si parla, forse è un errore del giornale, si parla della settimana nazionale della cultura per quanto riguarda il ruolo che ricopre Cagli come il Comune che si sta vicendando con altri Comuni in merito alla collaborazione con Pestro. Ebbene Cagli ha fatto veramente le cose in grande, ebbene sette artisti per sette industriali è una delle iniziative che si svolgono e proprio oggi alle 16.30 ci sarà l'inaugurazione al Salone degli Stemmi di un progetto di Land Art ai giardini del Viale della Vittoria che vedrà l'incontro di sette artisti con sette imprenditori cagliesi. Quindi non siamo a Fano ma siamo a Cagli. A Fossombrone invece c'è una preoccupante notizia. Sono stati disseminati dei bocconi avvelenati proprio per avvelenare cani e gatti dove lungo Viale della Repubblica e nei pressi, proprio a Fossombrone, nelle strade a Tigue, anche a Viale della Repubblica, un grande pericolo per cani e gatti. Prestate la massima attenzione. Questo è l'appello che sorge dal giornale. Il tamtam sui social media si è propagato con una velocità incredibile. In meno di 24 ore i contatti hanno raggiunto quota 5.000 e ieri sera era un continuo aumento appunto di segnalazioni. Attenzione, chi è veramente questa persona che è indefinibile per quanto riguarda la moralità dell'atto compiuto che ha disseminato bocconi avvelenati per uccidere delle povere bestiole. A Frontone, la stazione meteorologica festeggia 70 anni di servizio. Il colonnello Savina ha ricordato il ruolo centrale del presidio. 70 anni della costituzione della stazione meteorologica di Frontone sono stati festeggiati con grande cerimonia con la presenza del colonnello pilota Andrea Giuseppe Savina, il sindaco Daniele Tagnani e il sindaco di Cagli Alberto Alessandri. Quindi una bella festa per una iniziativa importante. Vediamo a Senigallia. A Senigallia si parla di commercio ambulante perché le bancarelle vengono sistemate sul lungo fiume, sul lungomisa. Poi un poker di mercati straordinari. Tutto questo è frutto di un accordo tra il Comune e gli ambulanti. Gli ambulanti di piazza Garibaldi. Il trasloco avverrà durante gli eventi. Concessi dal Comune, quattro mercati straordinari agli ambulanti che si preparano a trasferirsi già dal mese di maggio per lasciare spazio poi agli eventi. Ebbè, insomma, lasciano spazio quella parte che occupano attualmente per gli eventi e loro si spostano sul lungo fiume. Vediamo anche un altro articolo che riguarda Sassoferrato che ha dato l'addio a Silvia, maestra e supermamma, così viene definita. La sua battaglia contro la malattia aveva commosso tutti la gara di solidarietà non è bastata a salvare questa giovane donna che si è spenta a 46 anni. Il marito era gioia e amore, ha dichiarato. Una grande commozione per questo, per quello che è accaduto. Ed ora diamo un'occhiata alle pagine che il Corriere Adriatico riserva alla Regione Marche. Si parla di lavoro. Il lavoro c'è, purtroppo, non per i giovani. È solo un posto su dieci è per i laureati. Per quanto riguarda l'anno in corso, sono previste 11.090 assunzioni. Il 32% è per gli under 30, quindi non tanto per i giovani. Quindi tutto l'arco dei dieci anni che va da... nell'arco dei vent'anni, insomma, al momento dovrà restare in attesa. L'80% dei contratti è a termine. Avere veramente un contratto a tempo indeterminato è una chimera. Cerco 16 commessi, manca l'umiltà di imparare. Questo è un altro lato della medaglia. Qua mancano i posti di lavoro. Qui ci sono, però non ci sono le risposte alle ricerche di lavoro. Walter Colonesi della COP di Villa Fastigi bisogna conoscere le lingue e sappiamo come magari l'inglese o il francese scolastico non è proprio all'altezza della situazione. Ed ora parliamo di sanità perché c'è una notizia importante che pubblica il Corriere Adriatico. Quella della dimissione e del pensionamento della direttrice dell'azienda sanitaria territoriale numero 1 Nadia Storti. Ebbene è stato occupato il suo posto di responsabilità soltanto per 11 mesi storti dimissioni e pensione Pesaro perde la direttrice AST troppi dissapori con l'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini probabilmente sono all'origine della decisione la super manager del Covid così viene definita perché ha guidato la sanità regionale dal punto di vista tecnico proprio nel periodo caldo del Covid lascia dopo meno di 11 mesi azienda senza pace sappiamo come poi la trasformazione dell'azienda sanitaria dell'ospedale Santa Croce che comprendeva anche l'ospedale di Pesaro San Salvatore la sua trasformazione in AST insomma ha lasciato veramente un qualcosa di traballante all'interno della sanità era subentrata al commissario Gentili la Storti durato quattro mesi l'interim ora a chi va si fanno due nomi si tratta di Biraschi o Draishi al momento sono nomi che non si conoscono per quanto riguarda così la conoscenza normale di tutti ebbene vedremo che cosa accadrà in seguito in questa tormentata situazione sanitaria della nostra provincia ancora gravata di molti molti problemi primo tra tutti la mobilità passiva le lunghe attese per quanto riguarda i riscontri diagnostici per quanto riguarda insomma le visite che si debbano fare restiamo a Pesaro per vedere come i lavori del sottopass del cavalcaferrovia dei cappuccini procedano un'unica inaugurazione prevista ormai siamo al rasce finale si termina si dovrebbe terminare entro il mese di aprile l'assessore Pozzi rimarca il rispetto del crono programma e vedremo se veramente il cavalcaferrovia riuscirà ad essere aperto completamente al traffico proprio la fine di aprile mentre la bretella di muraglia ritorna ai sensi unici alternati proseguono i lavori restrizioni all'imbocco e in uscita però fino all'estate quindi chi va a Pesaro da Fano passando per la bettola poi si incontra con la rotatoria di muraglia con la bretella di muraglia insomma deve fare attenzione perché lì ci sono ancora lavori in corso ed ora vediamo come la campagna elettorale del sindaco di Pesaro Matteo Ricci si trasforma in una grande kermesse popolare 1600 invitati a cena nell'ex fiera di Campanara un migliaio di persone di più di un migliaio di persone mi aspetto la partecipazione di mille persone aveva detto Ricci però l'adesione è stata veramente oceanica sono state prenotate 1600 persone rispondendo ci vuole un contributo di 20 euro ma questo non ha arrestato la folla che si è che ha aderito a questo invito e poi parliamo di Amianto Amianto nell'ex capannone il comune non ha fatto nulla il comitato ONA ha incontrato i residenti nella zona di via terzi a muraglia chiudiamo l'esame del corriere adriatico con la pagina di Urbino no a discarica e agli ecomostri sia la partecipazione delle periferie ebbè è uno dei programmi della lista futura che candida a sindaca Francesca Crespini corriamo per vincere ovviamente tutti corrono per vincere ma la determinazione di questa lista civica dimostra appunto come si perseguono questi obiettivi no alla discarica e agli ecomostri allora chiudiamo il corriere adriatico abbiamo ancora un minuto per dare un'occhiata al resto del calino che come ho detto non ha la cronaca della provincia di Pesaro Urbino vediamo però come anche nella nostra regione ci siano delle manifestazioni sindacali per quanto è avvenuto purtroppo nella centrale di Suviana dove sono stati recuperati altri tre corpi vediamo anche il calino nazionale che evidenzia nella prima pagina il dovere di ritrovarli Conte questo è un articolo politico no parlavo della centrale di Suviana recuperati altri tre corpi drammatica ricerca dell'ultimo disperso ancora ne manca uno all'appello sono veramente difficili le operazioni che implicano i sub per la ricerca dei deceduti il giorno dello sciopero generale dicevo in modo particolare qui si parla di macerata dove c'è stata una forte mobilitazione il presidio della CGL della UIL in piazza incidenti frutto della logica del profitto siamo veramente in conclusione c'è anche una polemica in consiglio così abbiamo perso la chirurgia robotica è stata scelta di fermo con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci